. Chiara Ferragni, il look è a fiori smeraldo, cobalto e porpora Fiori, fiori, tantissimi fiori per Chiara Ferragni nel suo outfit griffato coach, la fashion blogger sta per partecipare proprio alla sfilata di questa Maison e non c'è che dire, tutti gli occhi saranno puntati su di lei con questo look meraviglioso Chiara Ferragni, fiori coloratissimi per coach Il look scelto da Chiara Ferragni per la sfilata di coach guarda all'estate, con questa frizzante fantasia floreale, ma anche verso l'autunno grazie alle tinte leggermente più scure dei soliti te adress ma comunque accesissime, come le non c'è di stagione che colorano di giallo, rosso e arancio laia circostante Ma non troverete queste cromie sull'abito della fashion blogger più in del momento, l'abito, infatti, è ricoperto di fiori verde smeraldo, blu cobalto e porpora, ricco di volant molto graziosi nel colletto e nello scollo agu, decorato sulla parte superiore del vestito e che copre elegantemente il décolleté della neo trentenne La parte del leone, poi, la fanno gli accessori, sul capo biondissimo della ragazza troneggia un fantastico cappellino stile basco, rigido e di vernice nerissima e scintillante Uno dei suoi preferiti, evidentemente, visto che non è la prima volta che Chiara lo indossa E cosa dire della borsa di coach? Ambrata nella tracolla anch'esso un richiamo all'incipiente stagione autunnale e per il resto interamente ricoperta di fiori di tutte le sfumature del viola e dell'azzurro Ai piedi un paio di stivaletti scuri, come vediamo di sfuggita dalle Instagram stories, il look è perfetto, tutti gli accessori sono in pendant tra loro e il risultato è di un'armonia unica Del resto, non potevamo proprio aspettarci qualcosa di diverso da Chiara che, notoriamente, sappiamo avere un gusto impeccabile da fashion blogger, nominata, e non a caso, tra le 500 persone più influenti nel mondo della moda Per la cena che celebrava questo grande traguardo, Chiara aveva scelto un elegantissimo outfit firmato Prada, azzurro carta da zucchero e con decorazione oro, un evento scintillante, perfetto per la bellissima fidanzata di Fedez che di allure che brillano se ne intende Adora ricoprire di glitter accessori e scarpe della sua collezione e, proprio per sottolineare il suo gusto e il suo charme, ha glassato di glitter tutte le pareti dei camerini del suo flagship store Volete vederlo? Lo shop della Chiara Ferragni Collection ha già aperto a Milano, ma se volete assistere a un vero party dovete assolutamente presentarvi il 23 settembre in Via Capelli 5, per la grande inaugurazione Chiara Ferragni, settimana della moda finita, ma ne inizia un'altra Chiara Ferragni si gode le ultime sfilate della New York Fashion Week, che sta ormai per chiudere i battenti, una floreale apparizione all'evento di coach non poteva non farla, come non poteva mancare allo show di Ralph Lauren E ora? È tempo di richiudere le valigie, numerose e ricche di una vasta parte del suo guardaroba, per tornare subito in Italia I motivi? Due in particolare, il primo riguarda, appunto, la settimana della moda di Milano, all'interno della quale inaugurerà il suo primo flagship store Il secondo riguarda Fedez, il suo fidanzato, infatti, sta per iniziare una nuova avventura con X Factor 11 e avrà bisogno di tutto il sostegno e i consigli della sua Chiara Inizia un'altra